Students for Future Progettiamo il nostro futuro È un progetto che vuole avvicinare studenti, docenti, alunni, imprese e organizzazioni per riflettere sul futuro della formazione e del lavoro e per rispondere alle tante domande che l'emergenza Covid ha generato. Quali competenze hanno modificato il mercato del lavoro durante la pandemia? Quali sono le soft skills più richieste? Il Covid sta modificando il nostro modo di vedere il futuro? Che impatto ha avuto l'emergenza Covid sulla selezione e sui percorsi di crescita nelle aziende? Quali sono le professioni del futuro? Una domanda che tutti si pongono ad essere ma quanto è importante lo sviluppo sostenibile nello scenario post-Covid? Come cambierà il mondo del lavoro con la crescente necessità di innovazione? Partecipa agli eventi in diretta sui canali social U-Siena del 7 e del 9 ottobre per ascoltare le risposte dei rappresentanti del mondo del lavoro e dell'università e non perderti l'incontro con gli alunni e gli studenti dell'Università di Siena il 5 ottobre in occasione della partenza della Career Week.